Sono stati presentati gli eventi che animeranno i mesi primaverili tra arte, cultura, turismo e spiritualità nell'anno delle celebrazioni agostiniane. Cuore delle iniziative saranno i musei civici con la promozione del progetto Museo Resiliente e con l'anticipazione della mostra iconografica su Sant'Agostino che sarà inaugurata il 28 aprile presso la Sala del Rivellino. Dopo tutto quel periodo che abbiamo passato estremamente negativo è ora naturalmente di dare spazio a quello che è il discorso della cultura, quindi dello spettacolo e di evadere un attimo da quelle che sono le problematiche. E quindi sono state progettate una serie di iniziative importanti quindi l'invito è venite al castello perché ci sono tante belle cose da venire a visitare oltre al fatto di alcune operazioni che sono state fatte e che tanti non conoscono ancora di rinnovo dei locali, di sistemazione e quindi grandi novità che adesso presenteremo per filo per segno. Quindi l'invito è, le vacanze di Pasqua per chi rimane sono sicuramente un'ottima opportunità per venire a vedere di queste meraviglie che noi godiamo ed abbiamo naturalmente in gestione. Quindi ringrazio la collaborazione di tutti, ci siamo fatti un'altra operazione in casa molto interessante che quindi verrà presentata fra poco per quanto riguarda il discorso di queste collaborazioni che stiamo facendo nell'ambito con i nostri concittadini che hanno grandi capacità e di conseguenza tante belle cose che adesso poi presentiamo una dietro l'altra. E poi non dimentichiamoci che c'è il discorso di Sant'Agostino che dura tutto l'anno quindi con una serie iniziativa, con una nuova mostra che rimangono aperte e che erano già partite e quindi tanti bei video e tanto discorso di novità poi a tutti gli effetti. Siamo stati chiamati per poter seguire il progetto di Cariplo, la base di Cariplo del progetto del Museo Sicuro e Resiliente al fine di creare tutta una serie di iniziative e coordinare una serie di iniziative svolte da partner che hanno la loro attività sul territorio al fine di ridare una nuova visibilità al castello e ai musei civici. In quest'ottica abbiamo realizzato oltre 30 eventi che si sono sviluppati a partire da settembre fino a dicembre dove sono state fatte visite guidate, visite teatralizzate, eventi anche con workshop per bambini. Sono state fatte tutta una serie di attività che hanno avuto come unico e comune denominatore che cosa il castello oggi possa offrire al pubblico e motivare quegli visitatori che hanno già avuto modo di frequentare il castello in tempi precedenti di avere una nuova occasione per rivisitarli e conoscerli meglio e poter approfittare di quello che è l'enorme patrimonio che viene messo a disposizione dal museo e dal castello. Quindi questa è stata l'attività che abbiamo svolto. Unitamente a tutte le persone e alle aziende con cui abbiamo collaborato poi abbiamo definito e sviluppato una serie di materiali che serviranno a livello di marketing e di presentazione di quelle che sono le attività possibili all'interno del castello e del museo e che quindi diventino un reale strumento per fare comunicazione obiettivo del bando sostanzialmente per far sì che il pubblico venga coinvolto maggiormente e possa comprendere quanto il museo del castello risultino ancora vivi e che questa vivacità e questa vita che può trovare nuovo sviluppo all'interno del castello possa raccontarsi nuovamente con molta più forza di quanto non fosse prima proprio perché lo strumento di comunicazione è uno strumento potentissimo con il quale poi il pubblico, lo spettatore, il visitatore che sia residente o non ha un nuovo motivo per poterlo frequentare e riscoprirlo e riconoscerlo.